Momento di bilanci per la protezione civile del CB Club Mattei di Fano, l'associazione di volontariato che conta 125 soci, di cui 88 uomini e 37 donne, tra giovani e adulti. 67 invece i volontari operativi per qualsiasi tipo di attività, sempre pronti alle emergenze e al supporto del territorio. Il CB Club Mattei conta ben 16 formatori suddivisi in radio, logistica, leggi e normative, segreteria, cucina e scuola di educazione cinofila. Il 2023 ha visto per la protezione civile ben 15 corsi di formazione, 12 attività di vario genere, 40 servizi antincendio negli eventi, 7 esercitazioni e 8 emergenze. Direi che è stato un anno abbastanza impegnativo, soprattutto per gli interventi che abbiamo fatto nella vicina Emilia Romagna e la Toscana con gli alluvioni. Ci ha visto impegnati per un mese circa con le motopompe, con le motoseghe, abbiamo dei moduli particolari. Uno qui è parcheggiato dalla Fir CB, quindi abbiamo utilizzato anche quello. Per un mese siamo stati impegnati su questo fronte. Poi ci vede impegnati sempre la parte esercitativa e formativa. Abbiamo partecipato soprattutto per le comunicazioni radio e i trasporti a Modex e a Darcevia, un'importante esercitazione a livello europeo. Quest'anno è stato un po' più impegnativo anche per la formazione, perché mentre abbiamo svolto qui la formazione a livello nazionale per la cucina e la parte logistica, siamo stati in Puglia a Martina Franca per la segreteria e ad Alessandria per quello che riguarda le comunicazioni radio. Direi un anno abbastanza intenso. Poi siamo intervenuti per la ricerca di diverse persone scomparse, al porto per quello che riguarda la fondamenta di quella imbarcazione che ci ha visti a posizionare le panne. Oltre i nostri servizi giornalieri che facciamo tutti i giorni, che conosciamo e sono quelli che ci danno un po' di linfa, nonostante il lavoro usciamo circa 43 per ogni mattina per quello che riguarda il trasporto di anziani e disabili, l'attraversamento dei ragazzi a scuola e la sorveglianza per quello che riguarda lo stabile della caserna. L'associazione di volontariato affiliata alla Federazione Italiana Ricce Trasmissioni e all'Unità Cinofila Italiana di Soccorso ha raggiunto anche degli obiettivi come la riqualificazione e bonifica dell'area di prima accoglienza in località in Gualchiera, l'aggiornamento dell'infrastruttura informativa e radio, l'acquisto di nuovi mezzi e di missione di quelli obsoleti e l'acquisto di dispositivi di sicurezza. Prossimi step, l'allestimento di strutture abitative ed emergenza, l'ampliamento di attrezzature operative e l'acquisto di un defibrillatore.